Ciao a tutti, allora siccome c'è tipo un caldo che non so, cioè io sto malissimo, non so voi, qualcosa proprio di indescrivibile, dobbiamo fare assolutamente qualcosa per rinfrescarci perché è proprio vitale, quindi oggi facciamo i ghiaccioli a limone, però non semplici ghiaccioli, proprio oggi ho comprato gli stampini per fare i galippo, che sono questi qua, di silicone, carinissimi, e quindi andiamo a fare i galippo a limone, quindi se volete vedere come realizzerò i ghiaccioli galippo, restate qui dopo la sigla. Vi servono 250 ml di acqua bollente, 250 ml di succo di limone filtrato e 125 g di zucchero. L'acqua è bollente, ci vado a versare dentro lo zucchero e vado a farlo sciogliere, quindi mescolo finché non si scioglie. Dopodiché facciamo un po' raffreddare l'acqua, la seconda parte la lasciamo raffreddare. Adesso aggiungiamo il succo di limone, mescolo un attimo e poi andiamo a mettere a versare il contenuto negli stampini, ovviamente vanno bene anche questi, perché la torta li ho fatti in questi, cioè lo stampino dipende da quelli che avete, da quelli che vi piacciono, stavolta faremo i galippo. Versiamo quindi negli stampini. Lo chiudiamo, bene, così, e poi abbiamo pensato, cioè Paolo ha pensato, cioè se voi volete potete anche metterli in un contenitore e poi metterli nel freezer, siccome però noi abbiamo questo, come è legato a vedere il freezer, abbiamo fatto così, insomma, la griglia, abbiamo cominciato a metterli così. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e mettete un mi piace per supportarmi, che è sicuro che sono ottimi questi cacciaccioli, sono veramente perfetti, buonissimi, sono proprio di limone. Poi i miei limoni erano anche, sono anche bio, nel senso, cioè sono proprio del mio giardino, quindi sono proprio buonissimi, super naturali. Allora, come avete visto l'altro, questo è anche un video per un giveaway, perché? Il canale ha raggiunto da poco i 6.000 iscritti e la pagina Facebook ha raggiunto i 2.000 mi piace. Quindi cosa ho pensato io? Di fare un giveaway per festeggiare queste due cose. Però stavolta, invece che su YouTube, lo voglio fare su Facebook per fare, diciamo, contenti anche quelli che mi seguono su Facebook. Quindi, se volete vincere, gli stampini per i galippo che vi ho fatto vedere adesso, come li ho usati, insomma, che sono molto utili, perfetti per l'estate. Quindi, se li volete vincere, andate sulla mia pagina Facebook, le dolcezze di Viki, come sempre, il link in box informazioni, e troverete il post dove vi parlo del giveaway con le varie regoline da seguire, pochissime regoline da seguire per provare a vincere questi. Quindi vi rimando alla prossima video ricerca di lunedì e andate su Facebook se vi interessa provare a vincere questi. Un bacione e alla prossima. Ciao! E ci occorrono 150... E' partito? Quindi, io ho paura che cadrà tutto, vero? Lo metto là dentro, però no, solo che poi lo devo lavare tutto. Spiego un secondo. Certo. Però secondo me viene deformato poi, no? Vabbè, però è comodo così. Ah, è vero. Ma se no me lo può pure girare? No. È chiuso col tappo? No. Però, provaci. Non lo voglio girare, non lo voglio fare girato, perché qui non ci va dopo. E questo? Adesso io vado a dire... Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, mettete un like e iscrivetevi al canale per supportarmi. Se il video vi è piaciuto... Che c***o ciò! Sono molto carini, in silicone, colorati, quindi se vi volete vincere, andate sulla mia pagina Facebook. Grazie a tutti.